Ciao a tutti, sono Vittoria Gaglione, sono nata a Genova nel 1999 e mi sono trasferita a Roma a 18 anni, quindi vivo a Roma adesso e all'inizio perché ho riscritto a giurisprudenza, poi ho capito in realtà dopo neanche tre mesi che volevo fare l'attrice per cui sono sei anni che studio recitazione e negli ultimi anni sto studiando con Michael Margotta l'ultimo progetto che ho fatto è stato il mio primo film che si chiama La seconda chance di Umberto Carteni interpreto il ruolo di Tina, è uscito a cinema a ottobre, in il suo raiuno il 29 dicembre, questo 29 dicembre e ho fatto la prima stagione di Doc de Le Tue Mani, il personaggio di Francesca, figlia della capostana delle infermiere Teresa Maraldi interpretata dalla fantastica Lisa Di Osagno e poi ci sarà anche una piccola parte nella terza stagione e ho fatto tutta la mia vita equitazione, quindi è lo sport che faccio meglio in assoluto e vado tuttora ancora al mio cavallo e parlo bene all'inglese perché ho lavorato sei mesi a Londra qualche anno fa e ho studiato inglese e recitazione anche negli Stati Uniti a New York e anche un pochino a Los Angeles. Detto questo vi ringrazio molto, spero a presto e arrivederci!